signore e signori ecco la nuova generazione dei pulcini guardate che carini dite ciao ai fan guardate che carucci non sono un amore guardate loro sono i pulcini di prima sono cresciuti e beh tu che guardi c'è schierogne mangia mangia devi essere pronto per la pentola devi fare le uova prima ti arruffi ma guarda quello ha spaventato questa gallina si vede male però il musetto davanti ecco vedete i pulcini venite un po sotto la luce non vi si vede ce n'è uno non vedete bene ma il collo pelato si si ha il collo pelato eccolo eccolo vedete è quello che si sta muovendo di là è quello guarda aspetta ve lo indico è quello lì quello al collo pelato vedete quella questa macchiolina rosata qui quella è il collo che c'è guardate quanti sono guardate guardate va bene si stanno spaventando troppo andiamo ce ne ciao piccolini crescita anche voi che porca misera eravate 20 uova siete nati soltanto in cinque vergogna vabbè questa è la nuova generazione e sei tu magna magna ma la volete piantare voi con l'inquadratura tristissimo a questo piccolo volcino chiudo e ci vediamo alla prossima